È stato il Circo L'Artistico di Arezzo ad ospitare venerdì 11 marzo la cena delle candele della sezione rettina della FIDAPA, presieduta da Paola Pompei. Una cerimonia che si tiene ogni anno in ogni sezione della FIDAPA nel mondo, dalle fondatrici che si trovano negli Stati Uniti a tutti gli altri club. Simbolicamente le candele rappresentano le socie che così con questa cerimonia si uniscono l'una con l'altra. Importante l'impronta che la stessa presidente Paola Pompei vorrà dare in questo anno di presidenza alla FIDAPA Aretina. Io credo che la novità che stiamo cercando di portare più di tutte è quella di una maggiore espansione nel territorio aretino e soprattutto una collaborazione con le strutture che stanno anche rispondendo molto bene. Infatti abbiamo per l'8 marzo appena organizzato in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo e gli altri club femminili un convegno contro la violenza sulle donne e comunque per la posizione delle donne della società in generale. Abbiamo fatto molte conferenze e molti convegni ma adesso la punta della nostra attività di quest'anno sarà questo concerto che faremo il primo aprile al Teatro Tenda che ha avuto il patrocino del Comune che si chiama Per Amore delle Donne perché il tema di quest'anno FIDAPA è quello di valorizzare il talento delle donne e anche promuovere una rete di collaborazione fra le donne stesse. E allora abbiamo riunito tutte le cantanti aretine alcune dei quali sono anche nostre socie e ci troveremo sul palco per una grande azione di solidarietà. Infatti il ricavato andrà al servizio lo scudo del Calcit che segue a domicilio i malati terminali.